È stata Daria Bignardi a far sbocciare l'amore tra il premio Nobel Dario Faux e il cantante, nonché giudice di X Factor, Mika. Il loro primo incontro, almeno quello ufficiale, è infatti avvenuto nel salotto delle invasioni barbariche in quel di gennaio. Tra un paio di brani e tanti complimenti è sembrata evidente la sintonia tra i due, che hanno infatti deciso di collaborare, come testimoniato dalla foto pubblicata su Facebook dallo stesso Dario Faux. L'occasione sarà lo spettacolo Francesco Giullare di Dio, che è dedicato al poverello di Assisi e che Faux sta registrando in questi giorni a Napoli. Lo show andrà poi in onda a giugno sul Rai 1 ed è proprio nel centro della Rai che Mika ha incontrato lo scrittore. Il cantante si trovava infatti a Napoli per un concerto in piazza Plebiscito per il Nutella Day ed è rimasto nella città partenopea per registrare il suo intervento nello show di Dario Faux. Dario Faux e Mika, l'abbraccio degli amfan terribile, ha scritto Faux su Facebook, mentre Mika ha pubblicato un'altra foto annunciando la collaborazione sia in italiano che in inglese. I fan del cantante hanno accolto la notizia riempiendolo dei complimenti e dichiarandosi impazienti di scoprire il risultato della collaborazione. Aggiungiamo la notizia riempiendolo dei complimenti di scoprire il risultato della collaborazione.